A Roma la manifestazione del PD, Martina, costruiamo una nuova sinistra, no alla manovra, i big in piazza, i militanti chiedono unità. Conti pubblici di Maio, dall'opposizione terrorismo mediatico per alzare lo spread, Salvini, convinceremo Quirinale e Bruxelles. La distensione Stati Uniti con le del nord, Trump scherza, un comizio io e Kim ci siamo innamorati, mi scrive Bellele. Lo scambia per un cinghiale, gli spara un ragazzo di 18 anni ucciso durante una battuta di caccia in provincia di Imperia. Finisce nel sangue una festa di addio al celibato nel Trevigiano, un uomo ucciso a coltellate e feriti, altri sette. La storia di mamma Maria Teresa perde due figli poliziotti in due diverse sparatorie, l'onorificenza di Mattarella. Calcio, dopo sette giornate la Juventus è già in fuga, sconfitto il Napoli, la squadra di Allegri non sembra avere rivali in campionato. Dopo l'addio ai bianconeri, Marotta dice no alla Federcalcio. Buonasera al TG1, a Roma dunque la manifestazione del Partito Democratico contro l'esecutivo e la manovra. Non si governa con l'odio, ha detto il segretario Martina. In questa piazza non c'è solo l'opposizione, ma c'è l'alternativa. C'erano i big del partito, da Gentiloni a Renzi, a Zingaretti e dei militanti la richiesta di unità. Cominciamo con Paola Cervelli e poi Maria Soave. Il segretario Martina...